Squadra organizzata, stiamo apprezzando, attenzione qui che parte sulla sinistra, Laurentiu, subito centrale, il numero 11, va al tiro, arriva il vantaggio della Dacica, 0-1 al secondo minuto, ancora largo sulla sinistra, il numero 19, non riesce a spedire pallone in direzione, spediotto, ancora all'interno dell'area di rigore, arriva il 2-0 della Dacica, c'è Laurentiu largo a sinistra, visto, è buono lo stoppa da parte del numero 11, tenta la botta da fuori a giro, con i pugni rosini, non è finita, ancora Laurentiu, ancora la botta, palla che termina fuori, per imbalzare, poi va in battuta, lungo, di testa, Mandorino, palla che rimane lì, entra all'interno della porta, dopo un batti e il batti è stato Roberto Mandorino, ad accorciare le distanze, 2-1, fa rimbalzare il pallone, la porta avanti, ancora la Laurentiu si accentra, ancora il numero 11, sale lui, buono il pallone in avanti, bravissimo Alessandro Rosini, a chiudere lo specchio della porta, per Tivusan, ha fatto il singresso in campo al posto di Georg, è partito l'avvenzione sulla sinistra, visto, buono lo stoppa all'interno dell'area di rigore, di punta, palla che esce di pochissimo, Teddy, stoppa e tira, ancora con i pugni, Rosini, ancora lui, distinto, terza parata importante da parte dell'estremo difensore del Real Madrid, Spediotto, ancora il numero 6, va al tiro, Spediotto, palla che si abbassa all'ultimo, guadagna calcio d'angolo, sale la pressione del Real Madrid, centrale da Teddy, ancora il numero 9, centralmente, tenta la botta, Teddy, ancora Rosini, avviso finora ampiamente migliori in campo, corto per di Diliuk, palla fuori, di pochissimo, va contento, dritto a rete, deviata da Panoglio, calcio d'angolo in fuori del Real Madrid, che sta crescendo moltissimo, da fuori, Spediotto, va al tiro, palla che termina sull'out, di destra, vicino al pari, il Real Madrid, calcio d'angolo, battuto, Nitrite, centrale, coperto, botta da fuori, è il pari, è arrivato grazie al numero 19, Nitrite, 2 a 2. Pronto a battere Tibursi, spiazza, Ioniza, 1 a 0, va a Gheorghe, spiazza, Rosini, 1 a 1, contro Valentina Ioniza, parte il 18, palla fuori, pronto a battere il numero 11, abbiamo imparato a conoscerlo, andrà di potenza, va a Laurentiu, spiazza, Rosini, 2 a 1, parte il numero 4, gol, 2 a 2, l'ultimo, calcio di rigore, è sui piedi di Mihai Razvan di Diliuk, pronto Diliuk, batte, segna, 3 a 2, la vince la Dacica, la seconda gara, finisce qui, vi aspettiamo per l'ultima gara.